Ciao Germain, piacere Antonio. Ciao, piacere. Benvenuto ad Emporia Armani Building Dialogues. Quale credi che sia il valore aggiunto dell'essere una persona creativa? Per me l'avantage d'être una persona creativa è di permettere di trasformare il mondo reale. C'è come immaginare che il mondo reale sarebbe dei muri blanc e che la creatività sarebbe la peintura che permetterà di trasformare le colori. Penso che il miglior modo di trasformare la violenza in produttività, in bellezza, è di creare. Quanto è importante per te? E come imparare a curarlo? Penso che il più importante nel stile è di farci tutto, di cercare quello che è più autentico, più integrato nella maniera in cui si presenta al mondo, in cui si presenta alle persone. C'è sicuro che, prima di se dire ciao, prima di apprendere a se conoscere, di cambiare i nostri nomi, la prima cosa che vedremo l'unico e l'altro sarà i vestimenti, i vestimenti, i vestimenti. Penso che il stile è questo, è trovare la propria maniera di parlare, prima di parlare. Qual è il consiglio che sei contento di non aver accettato? De rester discret, di non fare troppo, di me taire, finalmente, o allora di avere l'air più virile, o allora più noble, o juste, in realtà, di avere l'air differente di quello che io sono. Ho provato, ho provato, ho provato, ho provato, ho provato, e in realtà non funziona. Grazie Germain. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.